Buonasera a tutti, una lunga serata ma molto interessante, la chiudiamo con uno dei basilari della nostra vita, della nostra convivenza, della nostra società, che è la Costituzione italiana. Due libri, anche per giocare servono le regole, la firma è di Gerardo Colombo, se volete ve lo presento, ma credo non ci sia alcun bisogno, sicuramente 40 anni quasi magistratura e gli ultimi 10 invece, più di 10, 15, 14, dopo le dimissioni del 2007, dedicati a divulgare una cultura delle regole, una cultura delle regole che servono anche per giocare ma servono soprattutto per convivere in modo che ognuno riconosca l'altrui dignità. Questo è uno dei concetti fondamentali del libro e dei concetti che Gerardo Colombo sta cercando di trasformare in cultura quotidiana. Per capirci, Gerardo Colombo, oltre a occuparsi di tantissime cose, trova il tempo di fare almeno 100 incontri all'anno nelle scuole per divulgare questi temi. Il suo libro, che è di una essenziale semplicità, fa una breve storia della Costituzione, come è stata costruita, come si è evoluta, qualche difetto che si è portata dietro. Per questo la serata di stasera, questa parte della serata si intitola Costituzione, diritti e rovesci. I rovesci della Costituzione li ha raccontati Alessio Lasta in questo libro che si intitola La più bella, di ad editore, mentre quello di Gerardo Colombo è per i tipi di chiare lettere. La più bella parla proprio della Costituzione tradita. Sono dieci storie in cui Alessio si è imbattuto e che poi ha coltivato per tempo, che raccontano della negazione di alcuni dei diritti fondamentali che vengono riconosciuti dalla Costituzione. Sono due libri che si incontrano, che sono complementari e che proprio in questo concetto della dignità che la Costituzione riconosce a ognuno di noi e che è proprio il cardine fondamentale della Costituzione. Nella ricostruzione, nella descrizione che ne fa Gerardo Colombo, questo del concetto del riconoscimento della dignità individuale è il concetto che impernia tutta la nostra Costituzione e tutti gli articoli che vengono dopo e che declinano anche altri diritti servono a trasformare questo diritto fondamentale in qualcosa di reale. Due minuti ancora su Alessio che conoscerete perché è un personaggio televisivo, è un inviato della Sette, è un inviato di Piazza Pulita, sul campo lavora da tanti anni, ha un suo stile molto particolare nel raccontare le storie, nel mettere in scena il corpo e la sofferenza di alcune situazioni. E soprattutto non si tira indietro neanche di fronte a grandi dolori che sono sempre difficili da raccontare senza correre il rischio di spettacolarizzarli in una maniera non giusta. Questo più o meno è l'argomento e chiedo a Gerardo perché la dignità è ciò che sta alla base di tutti i diritti? Perché se non viene riconosciuta, concretizzata e trasformata in qualcosa di concreto, la dignità di ognuno di noi di fatto vengono negati tutti gli altri diritti? Allora, buonasera. Ho avuto un sacco di istruzioni per l'uso del microfono, spero di averle capite tutte e di comportarmi in conseguenza. Ma io credo che prima, cioè mi veniva da dire, che prima ancora, se noi vogliamo capire la Costituzione è necessario che ci chiediamo come mai l'hanno scritta e come mai l'hanno scritta in questo modo. La Costituzione, vedete che è subito mascolitato, la Costituzione mette al centro, io direi, della costruzione del nostro stare insieme l'osservazione, il riconoscimento, non l'attribuzione, il riconoscimento che ciascuno di noi, chiunque sia, è degno tanto quanto gli altri. Perché? Perché crolla tutto? Crolla tutto perché basta che uno solo non sia degno, che allora si fa una scala e c'è chi è importante e chi è da buttare via. E succede spesso che da buttare via magari sono proprio io, sei proprio tuo, sei tuo e qualcuno di voi, no? Ecco, ma a me piacerebbe riuscire a trovare anche la giustificazione del perché la Costituzione mette al centro di tutto la dignità dell'essere umano. Ti interessa? Te lo dico? E state attenti che sono, lo dicevo anche a lui, a quest'ora di sera, poi soprattutto tendo a parlare un po' troppo, quindi interrompimi se... perché è stato scritto tutte le persone, cittadini c'è scritto, ma vuol dire persone, sono importanti tanto quanto le altre, sì che le loro caratteristiche personali, che possono riguardare tutto il genere, l'etnia, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e le condizioni sociali, quindi tutto, non possono creare discriminazione. perché chi ha scritto la Costituzione ha pensato di rovesciare il sistema attraverso il quale si stava insieme fino al giorno prima? Non soltanto per via del fascismo, perché anche prima del fascismo le donne valevano niente rispetto all'uomo e anche prima del fascismo i cattolici valevano di più rispetto a tutti gli altri che avevano dei credi diversi, delle fedi diverse. Perché gli è venuto in mente? per salvarci. Per salvarci. Per salvarci da cosa? E qui io sono forse il più vecchio, va? Chi lo sa? E non rida che poi io ci resto anche male. Sì, io credo di essere il più vecchio. e sono nato però nel 46. Ho sentito parlare dai miei genitori, dai miei nonni, neanche tanto, perché era troppa la sofferenza, di quel che era successo prima della mia nascita, di quel che avevano vissuto coloro che la Costituzione l'hanno scritta. per salvarci da quello, per salvarci da due guerre mondiali, meno di vent'anni tra l'una e l'altra, per salvarci dalla Shoah, per salvarci dalla bomba atomica, per salvarci da tutto questo, hanno messo al centro della prima regola del nostro stare insieme tutte le persone sono degne tanto quanto le altre. Ti va bene? Mi va benissimo. Questo concetto che ho appena illustrato è riassunto in una frase, è un libro molto semplice, molto essenziale, e a volte arriva un po' come degli schiaffoni. Il suppruso fa parte della nostra cultura, è tramandato da generazioni, e per non essere vittime è necessario esercitare su se stessi una tensione continua, e una grande sfida anche da vincere la tentazione della soprafazione, perché questa, in un modo o nell'altro, è sempre stata l'impronta dello stare insieme. Alessio, quanta soprafazione hai incontrato nelle storie che racconti? Quanta soprafazione c'era e a cui è stato risposto con un eroismo personale che non era necessario per vedere garantiti alcuni diritti riconosciuti dalla Costituzione? Sentite, eccoci. Questo è il paese dei muri di gomma, di fatto, no? Cioè è il paese in cui si chiede a ciascuno di noi, anche a voi che siete qui questa sera, ciascuno di voi ha fatto esperienze nella propria vita di che cosa significhi il dolore in varie forme, no? E che cosa poi il dolore si porti dietro. Penso al comparto sanitario, penso alla situazione degli assegni di cura ai malati disabili o gravissimi che faticano ad arrivare. Penso a quanta pazienza ci vuole quando ci si interfaccia con la pubblica amministrazione. Penso a tutte le persone che vivono nella loro vita quotidiana delle esperienze di vero e proprio abbandono, no? Di percezione di uno Stato che non c'è. E quindi io ho cercato di andare con quello che fa un giornalista, cioè andare sul campo, vedere e raccontare. Ho sempre pensato, facendo proprio giornalismo col mezzo della televisione, no? Mi piace sempre specificare questa cosa. Noi facciamo giornalismo col mezzo della televisione, cioè non facciamo televisione. Facciamo proprio giornalismo e sfruttiamo il mezzo della televisione per andare a illuminare con la telecamera e con la forza dell'immagine anche, no? Delle storie dimenticate di questo paese. Ecco, io ho sempre pensato che l'unico modo per fare giornalista fosse stare di fronte alle cose che accadono e anche coinvolgersi nelle cose che accadono. Dico sempre che, stando troppo lontano, una certa forma di giornalismo anglosassone magari dice che si vede meglio, no? Io dico che invece si vede meglio stando più prossimi alle persone che racconti, no? Significa stare dentro quella storia, dentro quella storia che tu stai raccontando, ma consapevole che non sei il protagonista di quella storia, no? Che quindi quella sofferenza, quella persona che quando entro nei container di Foggia, dove 53 famiglie attendono un alloggio popolare che li spetta da circa 16 anni, le ho chiamate le vite a Tetris perché era proprio un incastro di corpi quei container, erano in 5, 6 dentro 24 metri quadrati. E dove si doveva decidere se abbassare il tavolino per mangiare consentiva poi di salire nel letto a castello per poter dormire. Quindi quando incontri delle situazioni del genere, quando ti dicono tu sei la nostra ultima speranza quando sei di fronte a loro, io avverto veramente un senso di responsabilità enorme, perché so bene che col mio lavoro magari posso, no? Squadernare un'attenzione, porre un faro, ma chi deve risolvere non sono io e non posso farlo io, no? Io posso contribuire. Quindi ti senti investito di questa responsabilità e ho cercato di raccontare tante di queste responsabilità di cui negli anni ormai quasi 20, insomma, di giornalismo televisivo ho conosciuto, no? E mi è sembrato... Guardate questo libro, io l'ho scritto dopo aver raccontato la storia di Carla, che è una malata gravissima di Sla, dopo aver vissuto con lei tutta un'intera giornata, con suo marito Biagio che si punta alla sveglia ogni due ore di notte perché ha paura che vada in blocco il respiratore della moglie. Avendo chiesto a Carla che, come se qualcuno di voi ha fatto esperienza di che cos'è la malattia della Sla, è tutta la sua anima, no? Tutti i suoi occhi e non più il suo corpo. Avendo ottenuto da questa donna la possibilità che noi potessimo entrare nella sua intimità per poter filmare la sua giornata e poter fare così un reportage che svegliasse le coscienze soprattutto della regione che non le dava l'assegno di cura, io tornai quella sera a Taranto in albergo, guardai il soffitto, disteso sul letto e dissi ma dove è finita la Costituzione da queste parti? Allora in quel momento ho capito che forse bisognava mettere insieme tante delle storie che avevo raccontato negli anni e che forse venivano in quel momento proprio a bussare alla mia coscienza e quindi quelle che ho raccontato sono storie che partono... non è un libro sulla Costituzione, io non sono un uomo di legge e faccio il giornalista, no? È, diciamo così, la traduzione pratica quasi come un tirare per la giacchetta chi deve fare e non fa messa nero su bianco attraverso questi dieci articoli della carta che raccontano storie di diritti violati. Diritti violati su Prusi Prima ho usato una frase di Gerardo Colombo per fare una domanda ad Alessio Alessio in un passaggio dice che l'Italia è il paese dove chi meno vale più si fa valere e che l'Italia che stiamo vivendo in fondo non è che la pallida immagine di quello che i costituenti avevano pensato per noi. È vero, Gerardo? E i costituenti avevano pensato... I costituenti sono usciti da quel che vi dicevo, no? Molto, molto sinteticamente perché sarebbe interessante andarci dentro e sono usciti con una grande speranza guardando se stessi perché la vita che hanno fatto era una vita che aveva un fine che aveva uno scopo che aveva un futuro che aveva appunto una speranza e pensavano che noi ce ne saremmo accorti noi, dico quelli della mia età poi voi magari la Costituzione non la conoscete proprio per niente succede, no? Forse si erano anche un po' illusi si erano ma neanche tanto erano anche consapevoli c'è quella parte c'è quel di fatto che sta nell'articolo 3 aggiunto dall'On. Revere Mattei sapevano che c'era tanta strada da fare perché sapevano che i vent'anni di fascismo e beh, insomma avevano lasciato un segno forte nella testa della gente le persone erano state educate dal fascismo e però avevano la speranza e pensavano che fosse possibile riuscire indicando una strada a far sì che le persone la vedessero e venisse loro voglia di percorrerla non è che sia stato proprio così e devo dire che tutte le volte in cui qualcuno ha cercato di percorrerla poi c'è stato anche chi ha tarpato le ali io mi ricordo proprio della mia vita nel 1968 io avevo 22 anni e per quanto fosse qualche cosa che difficilmente all'inizio si potesse interpretare è stato poi la molla che ha portato negli anni 70 al divorzio all'ordinamento penitenziario alla riforma del diritto di famiglia allo statuto dei lavoratori però nel 69 è arrivata la bomba di piazza Fontana e da lì c'è stato Peteano c'è stata piazza della loggia c'è stato quante l'italicus ce ne sono state tante e allora finite ma neanche finite intanto che andavano avanti nasce il terrorismo quanto difficile è stato per le persone andare avanti nel realizzare la costituzione a Milano negli anni 80 1980 81 alle 10 di sera non c'era in giro nessuno è significativo a proposito della possibilità di realizzare la costituzione vuol dire che la paura dominava e quando si ha paura è difficile uscire di casa non soltanto fisicamente ma anche metaforicamente ed essere quindi capaci di fare quel percorso vai avanti con molta difficoltà sollevi un pochino la testa passano un po' di anni arriva a Genova che ributta indietro la storia di un ventennio allora tutto questo si aggiunge a una tendenza culturale io non dico naturale dico culturale a vedersi parte di una società in cui la discriminazione è giusta perché noi tutti io compreso ebbè questa tendenza ce l'abbiamo passiamo 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 la nostra vita a giudicare gli altri e a metterci in scala rispetto agli altri chiunque di noi fa un pochino si guarda un pochino dentro e lo vede che è così che è esattamente il contrario di quel che dice la costituzione tutte le persone sono importanti come le altre e non io sono più importante perché ho la macchina più lunga perché guarda quello lì che ha i denti storti non per dire condizioni personali e sociali anche i denti storti fanno parte di quello anche le persone con i denti storti è un paradosso allora vedete vediamo tutti quanti ma come è necessario prima di tutto capire il perché della costituzione per dire vabbè ci cammino dentro vabbè faccio parte di quella repubblica il cui compito è eliminare gli ostacoli che impediscono alle persone di trovarsi sullo stesso piano di realizzarsi ciascuna tanto quanto le altre è quello che dice la seconda parte dell'articolo 3 è un compito si fa fatica però attenzione perché per raggiungere dei risultati è sempre necessario fare fatica è la nostra condizione umana se vogliamo mantenere la linea dobbiamo far fatica evitare di eccedere nel cibo e se ci succede dobbiamo far fatica se facciamo una dieta ma se vogliamo imparare qualche cosa forse anche l'uso gente come me che ha gli anni che ho corretto di questi strumenti non riuscire a tirare fuori e dobbiamo far fatica dobbiamo impegnare il cervello per qualsiasi cosa è la nostra condizione umana e nello stesso tempo però poi se il risultato vale la pena è interessante far fatica tu hai fatto fatica a scrivere il tuo libro eh sì ma ci avevi voglia di far quella fatica perché è perché avevi in mente che cosa poter comunicare per riuscire a fare in modo che un pochino di meno quelle cose che descrivi succedessero insomma la costituzione comincia con l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro tra le altre cose questa frase vuol dire che l'Italia può essere una democrazia soltanto perché soltanto se i cittadini lavorano perché sia una democrazia lavorano perché sia una democrazia perché se no senza cambiare una virgola di una legge la democrazia si trasforma in qualcos'altro e noi possiamo stare in piedi proprio se ci mettiamo in piedi è un compito di tutti è una necessità se vogliamo e se no se no continuiamo a fare i sudditi siamo abituati da secoli a fare i sudditi e andiamo avanti possiamo anche lamentarci facendo i sudditi rendiamoci conto però che se facciamo i sudditi c'è qualcun altro che ci governa e se c'è qualcun altro che ci governa noi stiamo sotto e c'è scritto anche nella seconda strofa dell'ino nazionale tra l'altro questo che tutti dimenticano noi fumo da sempre calpesti e derisi perché non siamo popoli perché siamo divisi questa è proprio una delle caratteristiche della nostra storia di essere territorio dove in più popoli sono entrati e hanno cercato in qualche maniera di far sì che ci fosse più una citazione da sudditi piuttosto che da cittadini Gennardo Colombo prima ha parlato della fatica che bisogna fare per quel passaggio che in un'altra parte del libro spiega molto bene cioè per capire che gli strumenti che noi abbiamo per esercitare e rendere concreti i nostri diritti sono principalmente i nostri doveri nel senso che nel momento in cui ognuno di noi riesce ad assolvere dei doveri di convivenza dal pagare le tasse seguire le regole che sono alla base della nostra convivenza è la forma migliore per esercitare il proprio diritto di cittadinanza mi chiedo questo libro il tuo libro è denso di fatica di fatica umana di fatica quotidiana di storie che tu stesso anche se non fai robe spettacolari definisci eroiche mi chiedo quanto le fatiche di queste persone siano riuscite poi a segnare un percorso verso il riconoscimento serve tutta questa fatica quotidiana una delle storie che a me ha colpito di più e quella di una famiglia che già deve affrontare il dramma di un figlio di 18enne che per un evento per un albero caduto in strada mentre lui era in motorino questo ragazzo diventa tetraplegico riesce ad avere un indennizzo per questo incidente quasi un milione di euro se non va derrando e già io trovo quella cosa stupefacente per come l'esperienza della burocrazia ma questa famiglia viene di fatto truffata da chi vendeva azioni di una banca poi è andata fallita e ha subito quasi quasi la beffa di venersi indicata sui giornali come quelli che volevano fare i furbetti che volevano investire loro chiedevano soltanto un investimento che garantisse che quel milione rimanesse per la vita del loro figlio e di quando loro non ci sarebbero più stati per organizzare una casa domotica e da un giorno all'altro con un provvedimento governativo un fallimento si sono trovati senza niente e hanno continuato a faticare per portare avanti questa a fianco del loro figlio questa esistenza Alessio queste fatiche sono servite serviranno sono necessarie sono ma sì tu citi uno dei casi che di cui mi sono occupato di più in questi ultimi anni cioè la vicenda di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca il più grosso crack bancario che ha coinvolto 200.000 famiglie quindi moltiplicate anche per 3 per 4 non solo in Veneto non solo in questa regione e ricordo insomma questa vicenda come proprio uno degli emblemi non solo di risparmio tradito ma di fiducia tradita perché il tema della fiducia guardate nelle nostre vite nelle vite di tutti noi è un tema fondamentale nei rapporti interpersonali nei rapporti affettivi nei rapporti che intercorrono tra gli esseri umani gli individui e le istituzioni ci lega per forza la fiducia no? noi affidiamo i nostri bambini quando li mandiamo al nido no? affidiamo i nostri i nostri ragazzi quando li mandiamo a fare sport li mandiamo nelle organizzazioni di promozione sociale li impegniamo nel volontariato è tutto un tema di fiducia quando però e qui arrivo al punto che mi preme la fiducia arriva a intaccare anche il denaro no? di cui si parla sempre in qualche maniera come fosse quasi un tabù no? qualcosa di sporco di brutto il denaro io lo intendo in questo racconto come il sacrificio di una vita di un padre di una madre per il proprio figlio un figlio sfortunato a cui è capitato in sorte di transitare con il motorino di ritorno dall'avere incontrato la sua fidanzata nella notte di San Lorenzo proprio perché il comune non aveva fatto la manutenzione adeguata a un albero no? allora io ho detto nel libro c'è una linea sottile nella vita di ogni persona dopodiché la nostra vita più o meno pensateci anche nelle vite di tutti noi non è più la stessa rispetto a prima e per Matteo questo ragazzo di 16 anni quella linea sottile è stata le 22.10 del 10 di agosto del 2002 cambiano le cose cambiano le prospettive e se cambiano le prospettive arriva anche la giustizia che ristora il danno che dovrebbe ristorare il danno e quando arriva la giustizia che da questo risarcimento alla famiglia arriva anche il Family Banker oggi si chiamano così poi mi hanno un po' cazziato perché non lo sapevo Family Banker è un marchio registrato da Banca Mediolanum quindi non si può usare perché altrimenti altrimenti ecco è un marchio registrato e quindi io mi scuso se l'ho ripetuto però diciamo consulente bancario allora ecco quindi siccome arriva questo consulente bancario amico amico di famiglia vedete la fiducia carpire la fiducia a cui a sua volta era stato detto se non vuoi perdere il tuo posto di lavoro e non vuoi essere trasferito a Palermo devi vendere queste azioni in cui prezzo era gonfiato azioni non quotate in borsa quindi con un diciamo così profilo di rischio inferiore rispetto alle normali azioni come siamo abituati a pensare e arriva dentro questa casa in cui sono stato e sono arrivato in un pomeriggio di novembre piena pianura veneta nebbia mi accoglie in questo tinello di casa anche piuttosto buio Matteo che muove la sua carrozzina con il mento e dipinge con la bocca e la sua mamma accanto a lui che quando la mamma ricordando la vicenda del figlio ha iniziato a piangere il figlio ha detto ma che cosa stai facendo c'è la telecamera pensate alla dignità anche di questo ragazzo di questa famiglia ecco il sogno e i soldi gli schei come dicono in Veneto i danè come si dice in Lombardia non sono i soldi per i soldi erano i sacrifici per un futuro per dare a Matteo una casa domotica e quando tu capisci la fiducia e quando tu capisci scusate il futuro tramite la fiducia beh io credo che sia ancora più grave non si tratta solo di una vicenda di risparmio tradito ma di fiducia tradita e allora in quel momento chi ristora il danno doppio a questo punto di Matteo che una casa domotica non l'ha più potuta avere ma astraendo da questa vicenda cosa ci insegna la vicenda del risparmio tradito ci insegna che quando subentra il ricatto nella vita di chi delle persone che hanno paura di perdere il loro posto di lavoro e questo ricatto entra a sua volta nella vita di un'altra persona si crea un domino in cui nessuno può più dire di no in cui è difficile che qualcuno a rischio di perdere il proprio posto di lavoro possa dire no io questa cosa non la faccio io questa cosa non la propongo perché so in partenza che queste azioni sono gonfiate se avete letto le vicende c'è stata la sentenza di primo grado recentemente che ha condannato i vertici della banca probabilmente interverrà la prescrizione ma non importa l'importante è che per sentenza almeno in primo grado sia stata riconosciuta la responsabilità di alcuni amministratori poi naturalmente dopo due tre quattro anni in cui vedevo questi anziani intabarrati nei loro palto di notte fino a mezzanotte con il freddo recarsi negli unici loro punti di riferimento che erano le associazioni che sul territorio lavoravano con loro e potevano dare loro una speranza per cercare di recuperare questi soldi perduti e non sono solo soldi perduti ma sono anche vite perdute perché alcuni di loro si sono tolti la vita perché alcuni di loro sono finiti sotto psicofarmaci perché non è facile neanche ammettere poi in un territorio così legato alla fabbrichetta all'artigianato al valore del denaro anche come modo per apparire se vuoi come il tessuto del territorio veneto beh non era facile ammettere di essere stati fregati fottuti non era facile ammetterlo neanche spesso alle proprie moglie che erano spesso ignare degli investimenti che i mariti avevano fatto e vedere questi anziani di 83 anni con poco titolo di studio o piangere in quelle situazioni insomma mi ha fatto proprio posso dire si può dire tanto no a quest'ora poi mi ha fatto proprio incazzare mi ha fatto pensare che proprio eravamo forse arrivati a un punto di non ritorno e per cui ora sono contento che il governo ha ristorato parte di questo danno ma certo la casa Matteo non la darà nessuno insomma mancanza di di fiducia l'impossibilità di di dare fiducia o dare fiducia a persone e a motivazioni sbagliate Alessio adesso prima Gerardo hai parlato di impossibilità di concretizzare questi diritti quando si vive nella paura siamo da due anni forse che viviamo nella paura di una pandemia ci sono state delle risposte esso c'è la paura del vaccino non si capisce se è preminente il diritto a esercitare la propria scelta anche di non vaccinarsi o il dovere di farsi carico della necessità di una comunità in questo momento che deve riprendere in qualche modo a vivere la sicurezza quello della salute è centrale nella Costituzione e molti hanno tirato in balò la Costituzione negli ultimi giorni per difendere la loro pretesa di non vaccinarsi o di non adeguarsi alle regole di convivenza che abbiamo dovuto adeguare in questo momento grazie per questa domanda perché mi permette anche di dire delle cose che stavo pensando mi avevo segnato sul coso lì prima io partirai proprio da quell'osservazione che facevi a proposito del legame che esiste tra i diritti e i doveri non c'è diritto senza dovere salvo che il dovere diventi qualche cosa che io capisco così tanto bene che allora ho voglia di farlo e in quel momento non è più un dovere ma un volere si riesce a capire vi faccio un esempio io pago le tasse non perché è un dovere ma perché voglio pagare le tasse e perché voglio pagare le tasse perché so che se non esistessero le risorse per poter garantire i miei diritti i diritti non li avrei non avrei il diritto di mandare a scuola i miei figli non avrei il diritto di curarmi ma non avrei nemmeno il diritto di tornare ad Alghero questa sera perché se non ci fossero le tasse per quanto non sempre messe a posto molto bene non ci sarebbero le strade che ci sono a me verrebbe piuttosto purtroppo scusate abbiamo poco tempo ma mi verrebbe di raccontare la storia che racconto spesso quando vado nelle scuole ragazzi e provo a essere estremamente sintetico c'è un signore che sta a sentire quelle cose che sto dicendo anche a voi adesso e a un certo punto dice oh caspita ci penso io non ho mai pagato le tasse e quindi ho usufruito di cose che hanno fatto gli altri e non io da oggi non usufruirò più nulla a cui non ho contribuito perché non ho mai pagato le tasse sono le undici come stasera si finisce ci si saluta e questo signore prima cosa che fa non qui perché ma mettiamo che siamo giusto Alghero dove sono esce e si benda perché si benda perché ci sono i lampioni e i lampioni stanno lì perché qualcuno ha pagato le tasse e allora il sindaco di Alghero ha potuto impiantare i lampioni ma non soltanto qualcuno ha pagato le tasse e il sindaco ha potuto pagare la bolletta della luce e si benda e dice vabbè tanto guarda io sto qui non tanto lontano vado mi appoggio alle pareti cammino sul marciapiede sul marciapiede com'è il marciapiede con che soldi è stato fatto il marciapiede orca devo andare a casa per i campi e va a casa per i campi non vede niente mette un piede in un fosso si storta la caviglia che male che male che male che male chiamo l'ambulanza prende il telefono lo ripone subito non posso chiamare l'ambulanza perché c'è l'ospedale soltanto perché altri e non io hanno pagato le tasse arriva a casa arriva a casa tardissimo perché è un male ci ha messo tantissimo a tornare a casa trova la porta spalancata la casa svaliggiata chiamo i carabinieri riprende il telefono lo rimette giù perché lo sapete già anche i carabinieri tutte queste robe qua apre il rubinetto per bere un bicchier d'acqua lo chiude subito perché anche la rete idrica è arrivata a casa sua per via del fatto che altri e non lui hanno pagato le tasse e gli scappa la pipì va direttamente in giardino a farla perché sa che anche la rete fognaria è arrivata a casa sua per le tasse e allora io le tasse le pago perché voglio e non perché devo attenzione perché comunque la costituzione che comincia con l'articolo 3 dicendo che tutti noi siamo degni come gli altri appena prima come numero ma appena dopo logicamente dice che la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri di solidarietà politici economici e sociali e c'è questa relazione io posso garantirti i diritti soltanto se tu sei solidale e qui veniamo alla storia della 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 sanità io posso garantire per quanto è possibile la salute di tutti cercare di tutelare perché la costituzione non tutela non garantisce la salute la tutela lo sappiamo che si muore io posso tutelare la salute di tutti se tutti sono solidali nel far sì che le persone possano avere il diritto di vedersi tutelata la salute allora io comunque non drammatizzerei perché attenzione noi stiamo dando anche troppa importanza a dei numeri che non sono poi così elevati insomma credo che il 70% degli italiani o più o meno poco meno abbia ricevuto la prima dose e ci siano tanti italiani in coda io dico italiani come per dire persone perché anzi ci sono delle persone che vorrebbero vaccinarsi e che fanno fatica e delle volte non riescono a vaccinarsi persone che sono qui perché la nostra costituzione dice che tutti coloro che nel loro paese non possono usufruire delle libertà democratiche garantite dalla nostra costituzione hanno il diritto di essere accolte e l'accoglienza è molto spesso approssimativa per questi aspetti allora mettiamo insieme le cose facciamo la tara insomma smettiamo alla fine di far pubblicità a queste persone che non hanno il senso della solidarietà perché se l'avessero si renderebbero conto che ci sono anche gli altri tra l'altro non mi viene neanche la parola perché voi lo sapete che i vaccini sono obbligatori per tutti i bambini sono obbligatori per tutti i bambini non è una novità questa e lo sapete che ci sono tantissime cose che sono obbligatori rispetto al fine e che coinvolgono comunque anche quelle la salute magari indirettamente se uno di noi volesse guidare la macchina dovrebbe avere la patente perché cosa ma forse soprattutto per garantire la salute degli altri oltre che la salute propria allora è qui che si risolve la questione e il tema è quello proprio del riuscire a mettere insieme i diritti di tutti in modo che i diritti più fondamentali possiamo dire non siano sacrificati da altri diritti che non sono altrettanto fondamentali Alessio ma si guarda io ho raccontato per Piazza Pulita la situazione delle terapie intensive durante la prima ondata sono stato il primo giornalista a mostrare quelle immagini e a entrare dentro quel reparto quando ancora nessuno sapeva nemmeno che cosa volesse dire per esempio un corpo prunato che poi tutti abbiamo imparato a riconoscere e questo racconto che allora si rendeva necessario per rispondere a quella domanda che era anche una domanda che veniva fatta nei nostri talk se Covid-19 fosse poco più di un'influenza e quindi la forza delle immagini rispose allora a questa incertezza che animava i dibattiti televisivi e non solo devo dire che in quel momento la politica inizialmente fece un passo indietro tanto che poi parlammo di Repubblica dei virologi di scontri diciamo così di cadute di vedute diverse tra le varie posizioni che abbiamo imparato a riconoscere in questi mesi in questo anno e mezzo ormai da parte dei virologi e allora raccontato questo fatto emotivo mi sono messo sulla scia di un racconto che andasse diciamo così più a capire perché ad un certo punto quando si è iniziato a parlare di vaccino che tutti noi ritornando a quei primi giorni di marzo ve li ricordate che cosa avevamo vissuto allora tutti noi bramavamo improvvisamente non va bene neanche più quello allora interrogarsi è giusto è proprio il sale della democrazia anche avere vedute diverse su questo tema anche avere dei dubbi vaccino sperimentale sì certo ma che cosa dobbiamo fare se non in questo momento cercare di ridurre l'impatto del danno poi la scienza e la medicina faranno i loro progressi ma da questo punto di vista è l'unica arma che abbiamo in questo momento almeno per cui mi sono messo sulla scia del racconto dei cosiddetti novax diciamo chiamiamoli così e ricordo proprio una manifestazione a Roma a Palazzo Chigi di mamme proprio di mamme che avevano dei forti dubbi e di insegnanti anche che avevano dei forti dubbi sul vaccino e uno di loro brandiva un cartellone con l'articolo 32 della Costituzione la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività peccato che quando poi si proseguiva nella lettura di quell'articolo il resto di quell'articolo praticamente per loro non esisteva perché è vero che il resto dell'articolo dice che nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario anzi lo leggo perché non voglio sbagliare un determinato trattamento sanitario però dice anche un'altra cosa che su quei cartelli non c'era scritto se non per disposizione di legge e quindi è la legge che subentra e regola il corpo sociale è la legge che entra a normare le derive che ognuno di noi e le opinioni che ognuno di noi può avere da questo punto di vista poi proseguo sempre in questo articolo 32 si dice anche la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana e poi con grande stupore scopro oggi leggendi giornali che questo rispetto della persona umana e questa violazione del rispetto della persona umana per taluni è il green pass faccio questa scoperta sconcertante proprio sui giornali di oggi dove si apre questo dibattito per cui per Carlo Freccero insomma il non rispetto dei diritti individuali quindi prima ancora che collettivi dice lui della persona è il green pass e addirittura arriva a istituire questo silogismo per cui non rispettare i diritti individuali quindi dell'individuo e della persona umana significa in qualche maniera fare in modo che questo green pass possa essere guiparato a una pratica che sa vagamente di nazismo istituendo un ulteriore salto semantico salto di termini rispetto a quelle che sono le questioni fondamentali evocando la Shoah evocando insomma Norimberga e quant'altro allora io dico in una situazione del genere è giusto sempre interrogarsi ed è giusto avere anche opinioni diverse però non dobbiamo perdere il contatto con la realtà perché se noi perdiamo il contatto con la realtà significa che viviamo in un'altra dimensione e viviamo fuori da noi stessi quando l'essere umano vive fuori da se stesso non entra mai in relazione con le altre persone si porrà sempre vive in una bolla no e i suoi interrogativi rimarranno solo suoi le sue paure rimarranno solo sue i suoi dubbi magari alimentati da lettura di fake news da lettura di social da sbagliati oggi vi racconto questa no vi faccio sorridere prima di venire qua a Milano passeggiando c'è una signora sulla 45 50 anni con il cane spiegava alla madre l'anziana madre sai mamma io ho sentito che questi vaccini che questi vaccini attaccano la proteina spike perché questo se l'era ricordata questo termine spike forse uno se lo ricorda ma entrano nelle cellule allora insomma cioè non che la signora col cane di 45 anni 50 anni che conosce vagamente solo il termine spike sia diciamo così l'esempio della maggioranza del pensiero di questo paese per carità però è vero che serpeggia no questa lettura distorta è vero che qualcuno ha messo dentro taluni questa idea che addirittura entrano nelle cellule le modificano ci cambiano e quindi è qualcosa che non ci fa bene ma ci fa del male no poi salvo tutte tutte le precauzioni che occorre avere tutti i dubbi che magari possiamo maturare anche una certa incertezza nell'andare a vaccinarsi in una situazione in cui tutta la comunità scientifica mondiale medica mondiale ha fatto i salti mortali per arrivare a darci questa che magari è una panacea no ma di cosa possiamo in questo momento che armi possiamo mettere in campo se non questo d'altronde abbiamo riempito i nostri paesi di Ethernet per per decenni e adesso si scopre che appunto si fanno i processi contro chi produceva l'Ethernet che però in qualche modo la scampa vi voglio portare siamo verso la chiusura vi voglio portare su un tema molto dolente per la terra che vi sta e ci sta ospitando che è la Sardegna che è quella questione dell'ambiente nel suo rapporto con le giovani generazioni Gerardo Colombo vede nei nei giovani forse e nei movimenti dei giovani che si occupano in maniera concreta di ambiente quasi dei quasi dei nuovi costituenti se mi permetti questo passaggio perché perché i giovani stanno cercando di fare un'accesura verso un sistema di vita che non è più tollerabile verso un livello di di disinteresse per le conseguenze che si hanno con le nostre azioni verso l'ambiente che non è più neanche tollerabile non è più sostenibile le ultime emergenze l'hanno dimostrato l'ultima vicenda a Sarda questo incendio che per quattro giorni ha devastato zone poco più a sud di qui e che lasceranno il segno per i prossimi 20-30 anni su almeno 30 mila 20 mila 20 mila e che hanno intaccato la cultura hanno intaccato l'economia era una zona di eccellenze e Gerardo Colombo pensa che per che per cambiare qualcosa realmente nell'ambiente bisogna c'è bisogno di una grande cesura esattamente come c'è stato per la tortura che sino a un certo punto era una cosa tollerata se non permessa e poi a un certo punto si è aperto un dibattito e sono state prese le posizioni da quel momento in poi la tortura non era più ammissibile non era più possibile contemplarla in un sistema democratico legale non era più giusta neanche allora l'ambiente l'ambiente è veramente la nuova frontiera dei diritti dei doveri la costituzione ci può aiutare in questo è una è una delle frontiere l'ambiente perché purtroppo ce ne abbiamo tante ma pensate quante cose ci sono nella costituzione che non sono vere la costituzione dice per esempio le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità la costituzione dice che il lavoratore quindi qualunque lavoratore ha diritto a una retribuzione che consenta a lui e alla famiglia una vita libera e dignitosa cioè sono delle cose che guardi e dici eh sì dove dici dove e c'è anche l'ambiente che forse però è la cosa più fondamentale di tutte perché senza senza la terra sulla quale viviamo poi tutto il resto no non ci può essere l'ambiente è è è il punto di partenza di tutto e anche lì noi facciamo una grandissima fatica ma facciamo una grandissima fatica a rispettare l'ambiente che è anche una fatica a rispettare se stessi che è un punto interrogativo io me lo chiedo ma perché non ci vogliamo bene alla fine perché non ci vogliamo bene perché l'ambiente è una parte forte una parte grossa nessuno ha letto La strada di McCartney l'hai letta vi consiglio di leggerla magari cambiate un pochino idea è tosta veramente e dicevo l'altra sera l'affermazione lascia un po' di stucco la nostra fortuna la fortuna del genere umano è che si muore perché morendo arrivano gli altri arrivano le nuove generazioni che in qualche modo non hanno la storia che abbiamo noi alle spalle ma pensate che fatica facciamo noi a rinunciare a tante cose che fanno un male dell'altro mondo pensate che fatica che facciamo a non muoverci in macchina anche per andare a prendere il giornale adesso non si usa più a comprare non lo so il latte forse si usa ancora a 50 metri 100 metri 200 metri di distanza non lo facciamo abbiamo una storia alle spalle che è una abitudine una vita che ha creato quel che c'è e gli incendi magari aiutati da qualche mano non lo so in Sardegna e contemporaneamente i disastri invece alluvionali in Belgio in Germania in Italia lago di Como eccetera caspita ma sono tutte cose che che noi creiamo con la nostra abitudine c'è il mare che è pieno di plastica adesso tra un po' mangeremo i pesci plastica perché già adesso sono pieni di microplastiche ma tra un po' diventeranno plastiche e basta siccome siamo degli animali che si adattano molto ci adatteremo anche a mangiare la plastica saremo capaci i nostri stomaci saranno capaci di riuscire a trasformare la plastica in energia e chi lo sa noi dobbiamo riuscire a entrare in una prospettiva secondo la quale per avere risultati è necessario darsi da fare in un modo in un altro e in un altro cioè essere attivi ma anche essere passivi cioè rinunciare che è poi è diventato anche una specie di filo conduttore di questa serata no? perché il rinunciare riguarda anche rinunciare a imporre agli altri la propria non vaccinazione e rinunciare e rinunciare a imporre a chi è debole no? quel che abbiamo sentito da te essere capaci di rinunciare sapete qual è la cosa che ci dà più fastidio di tutte la libertà perché al di là delle parole la libertà non è faccio quel che voglio la libertà è scelgo tra questo e quello e se scelgo quello rinuncio a questo e se scelgo questo rinuncio a quello e allora è per quello che abbiamo una tradizione di sudditanza perché la libertà ci dà fastidio e un'altra cosa allora un altro consiglio non l'ho scritto io come non ho scritto io il libro che citavo prima l'ha scritto McCartney questo l'ha scritto l'ha scritto invece Dostoiesti è un capitolo dei fratelli Karamazov il quinto della prima parte si chiama il grande inquisitore ci serve a capire tanto di noi e magari nel momento in cui abbiamo capito tanto di noi ci serve ad aiutarci per crearci un futuro noi non possiamo dire più per crearci un futuro migliore e siamo ridotti a dire per crearci un futuro sì c'è poco da aggiungere insomma queste parole molto molto belle di Gerardo Colombo cito o mi ricollego brevemente anche a questo a quest'idea della rinuncia no? anche la rinuncia può essere vista anche in termini di concertazione rinunciare a parte di quelle che sono le proprie abitudini a parte anche delle proprie visioni su un tipo di mondo a cui noi ci siamo abituati l'uso della macchina in maniera imprescindibile significa anche fare una scelta di responsabilità individuale che però influenza l'agire collettivo e mi piace ricordare anche quello che il presidente Mattarella ci ha consegnato e guardate ce l'ha consegnato proprio quando a Bergamo ha ricordato un anno fa le vittime del covid e ci ha ricordato il principio di responsabilità individuale e l'ambiente è uno dei temi su cui il principio di responsabilità individuale proprio si esplica in maniera più compiuta il mio comportamento influenza la tua possibilità di fuire una cosa che è un bene comune e quando ciascuno di noi fa propria la responsabilità dell'altro riconosce nell'altro se stesso pensa che l'altro è la persona con cui può entrare in relazione con cui può condividere parte della bellezza del nostro creato guardate questa basilica io sono rimasto allibito è la prima volta che venivo ho avuto una specie di sindrome di Stendhal sono rimasto a guardarla a lungo ho assaporato questo silenzio ho vissuto il tramonto che magari per voi è normale per le nostre vite nelle nostre città nei nostri super mega palazzi alti 30 piani non è normale è qualcosa di cui ho fatto per la prima volta esperienza oggi ecco pensate quanta bellezza pensate quanta storia c'è lì pensate quanta bellezza c'è nella vostra regione un mare fantastico un'entroterra altrettanto pieno di storia pieno proprio di storia con l'S maiuscola ecco sapere che tutto questo è responsabilità anche mia ma mia come individuo perché diventi anche nostra come collettività credo che sia l'unico messaggio possibile per pensare a un futuro pensare a un futuro insieme collettivo che la Costituzione mette sempre a fuoco perché parla sempre di individuo e lo collega sempre alla collettività ecco io credo che assumerci questa responsabilità può essere anche un bel messaggio che può partire da questo festival qui in questo territorio fantastico grazie 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 a tutti